De Monte, lei ha avuto a che fare direttamente con... lei ha avuto uno scontro frontale con la politica e non solo. Ci sono state delle cause in tribunale, comunque se ne è parlato molto, anche con toni molto pesanti. Le sembra che, ad esempio, in questo caso di Firenze, la politica rientri di nuovo, diciamo, per usare un termine calcistico, a gamba tesa? Cioè, le sembra... trova degli elementi di paragone? Ma guardi, degli elementi di paragone sul caso mio specifico, il caso di Alana, assolutamente no. Comunque concordo con quello che ha appena detto il dottor Tesolat sul fatto che è un argomento che dovrebbe essere discusso in maniera pacifica, in maniera trasversale, perché è un argomento trasversale, e su questo sono d'accordo, su quello che ha detto lui. La politica non lo deve strumentalizzare. Una grossissima strumentalizzazione viene fatta già sul termine testamento biologico. Attualmente, parlare di testamento biologico equivale a dire sospensione delle cure. Testamento biologico, invece, per come è la visione sia dell'associazione peroluana, nostra, che per tutto, anche l'associazione coscioni, che stiamo raccogliendo queste dichiarazioni anticipate, è semplicemente la santificazione proprio della volontà individuale di esprimere la nostra posizione. È un prolungamento di quello che è il consenso informato, cosa che normalmente, regolarmente avviene in ogni atto terapeutico, dove la persona può stabilire se sospendere o accettare la terapia. Testamento biologico non vuol dire solo che se io sono in uno stato di non più coscienza dovete sospendere la mia terapia. Posso anche dire che se io sono in uno stato di non coscienza, io voglio che mi vengano garantite tutte le terapie fino a che morte non sopravvenga. Sì, certo, non vuol dire necessariamente contrarietà. Esattamente, e su questo si sta strumentalizzando la cosa. Questa è una cosa gravissima che viene fatta, perché giustamente su una tematica che è molto delicata, è una tematica che tra l'altro il Parlamento ne ha dibattuto da decenni, e di colpo invece, viste le situazioni che sono create, si è creata o artatamente questa volontà, questa necessità, di portare a termine in maniera, come l'aveva definita Rodotà, una specie di turbo legge, quindi anticiparlo in maniera... Troppo frettolosamente. Troppo frettolosamente, perché è giusto che prima di arrivare a prendere decisioni che riguardano la vita di ogni individuo, come nel consenso informato si deve informare adeguatamente le persone, è giusto fare una massiva diffusione di cosa significa fine vita, di cosa significa situazioni di stati vegetativi.